Ennesimo infortunio sul lavoro, il quarto in poco più di una settimana, questa volta ad avere la peggio un ragazzo di circa 30 anni che è rimasto seriamente ferito ad una mano nel pomeriggio di domenica all'interno di un'azienda sita in Cerrione. L'uomo sarebbe rimasto incastrato in un rullo con la mano destra per causa ancora da accertare. L'arto avrebbe riportato una grave lesione. Il giovane è stato immediatamente assistito dal personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dell'ospresal per gli accertamenti. Dicevamo, il quarto nel nostro territorio in pochi giorni. Una decina di giorni fa, infatti, un incidente sul lavoro avvenuto a Masserano a danno di un uomo di 75 anni che era intento nell'operazione di scarico del proprio furgone ed ha perso accidentalmente l'equilibrio. Nella caduta aveva battuto violentemente a terra la schiena ed il capo. Un altro infortunio avvenuto in un'azienda testile di Quaregna Cerreto, dove un operaio di 25 anni impegnato alla lavorazione in linea era rimasto con una mano parzialmente schiacciata tra i rulli del macchinario. Il giovane era stato immediatamente soccorso da un equipaggio del 118 e trasportato in codice giallo presso l'ospedale di Ponderano. Stessa dinamica poche ore dopo. L'ospedale indaga su eventuali responsabilità.